Centro storico off limits, da questa mattina è attiva la ZTL che dà accesso solo ai residenti, un altro duro colpo per i commercianti della zona che già lamentano la poca affluenza per la mancanza di servizi. È una penalizzazione ulteriore in realtà perché anziché creare degli indotti, qualcosa per cui la gente venga al centro storico, ci sentiamo murati vivi. Persone che venivano anche qui nel salone parcheggiavano sopra il duomo cercando un posticino tranquillo. Con i funerali giustamente si avviserà il comando dei vigili e quindi poi giustamente spegneranno la ZTL. Già siamo rimasti due o tre attività, dicono di incentivare il centro storico ma questa cosa è contro l'incentivazione ad avere un centro storico più aperto a delle attività. La petizione per istituire la ZTL parte dai residenti ma alcuni di questi sono comunque poco contenti della chiusura della strada. Io non è che sono molto contento, anche perché voglio dire, poi se ci viene a trovare qualcuno a casa abbiamo difficoltà a farli parcheggiare. Quello che c'è già non mortorio, ma è più mortorio ancora. I commercianti non sono mai contenti, se pure guadagnano un milione, loro devono dire sempre che non guadagniamo niente. Ma da parte dell'amministrazione e dalla polizia municipale nessun passo indietro. Penso che sia l'unica città in Italia dove il Duomo non era disciplinato, credo che sia giusto così.